Per te Dindo, ti ho guardato prima mentre correvi nel circuito, circuito con tutte curve a destra, che scelta di gomme hai fatto? Beh, essendo un circuito con molte curve a destra abbiamo scelto delle gomme più tenere a sinistra per avere più grip, più aderezza nelle curve a punta destra ed è stata la scelta che più o meno adottano tutti durante i top qualifying. Noi avendo un 4W motrici utilizziamo le gomme tenere sulla parte sinistra, in questo caso penso Fabrizio con l'Alfa sull'anteriore. Bravo, bravo. Confermi, confermi.